istigazione a sognare un'opera di teatro civile troverete il racconto di come negli ultimi 30 anni operano le mafie meno tritolo meno kalashnikov meno pistole più carta bollata proiettili istituzionali la mimetizzazione delle mafie nel cuore dello stato come si colpiscono i servitori della repubblica onesti ed è per questo che non si parla più tanto di questione morale perché c'è una penetrazione diffusa poca eco mediatica pochi fatti esplosivi ma più corrosione della democrazia nella seconda parte una serie di vicende di fatti che caratterizzano nella mia esperienza di sindaco di napoli come si può applicare la costituzione dal basso risolvendo l'emergenza rifiuti applicando unica istituzione italiana l'acqua pubblica i beni comuni i porti aperti i diritti civili l'umanità e il sindaco di strada istigazione a sognare perché il messaggio è quello della partecipazione del cambiamento della riscossa e della voglia di giustizia che deve caratterizzare tutti nell'impegnarsi quotidianamente appunto anche attraverso la funzione pedagogica del teatro civile